CONT-TIT-T-TAT-TINI ORGETEMI LE ORECHIE VOSTRE Grazie a tutti. Perché è sempre qualcosa che passa attraverso una prevenzione e quindi tu non ascolti mai l'oggetto, ma ascolti le contraddizioni che tu vuoi andare a cercare nelle cose, per questo disco per esempio. Ma questo non faceva l'astrattismo? Non è dove sta il bene che c'è il bene, dove si professa il bene che sta il bene e non è dove si professa il male che sta il male. Ma tutto è fortunatamente complicatamente intrecciato. Grazie.